Il tema della giornata mondiale è andate a parte di sempre tra tutte le nazioni e quindi voi italiani, noi brasiliani, i tedeschi, i cinesi, gli americani, siamo tutti la stessa famiglia e abbiamo tutti un solo Dio, abbiamo un solo Salvatore Gesù Cristo, abbiamo una guida che qui in terra si chiama Francesco. Accompagniamo gli orientamenti di Francesco, cerchiamo di vivere come veri figli di Dio, cerchiamo di vivere come Chiesa unita, Chiesa gioiosa, sempre lieta nella speranza.